Oh, cosa dobbiamo fare? Oh, ho un asco Oh, aspetta Oh, oh Oh, oh Cosa fai io? Oh, sto registrando Sì, ho capito perché urli Alla bandini mi sentono di questo nuovo video al bollo Sono in compagnia di Kondo Eh, ciao Mia, allegria Stai male te Non sto male Sono dovuta andare a prendere la stazione a sto ragazzo E io mi sono svegliato alle 6 Lui si è svegliato alle 6 Sì, ma non so se ti sento Non so se parli così Sì, vabbè, è un microfono Prenderà da qui a lì Eh, ma chi ti dice che prende? Se non vuole prendere Stai guarda Ragazzi, aveva 5 minuti fa e era calma Non è vero Perché stavo sclerando dietro al rimborso del video È un video così Dove vi parliamo Un po' a cazzo Un po' come i video che ha fatto con Blink Cioè, proprio Sì A parte che quello è diventato un Fashion blogger Quindi Sì, però dove eravamo i Blink Però avevamo i ragazzi con gli occhi giuri Che vorremmo in camera Facciamo tipo i sexy Ma non è vero Io non so Vabbè Comunque ragazzi Comunque ragazzi Siamo a casa mia Sono le Se voglio rifarlo Vi rincoglionite se faccio così? Eh, dai, ancora Dai, poverino Va bene, basta Allora, ragazzi Sono le nove e trentadue Siamo arrivati a casa da poco Il tempo di fare il reclamo sul sito di Trenitalia Per il rimborso del biglietto E abbiamo fatto colazione O meglio, io ho fatto colazione Lui si è mangiato i suoi crackers Perché si deve tenere in forma E il ragazzo Dove vai? Dove vai? Dove vai? La webcam è lì Dove te le stenda? Eh, non è che fa via Dove te le stenda? Ti abbassi? Io sono sulla poltrona, ragazzi E quindi sono più bassa Ma sei bassa anche senza poltrona Però non sono Sei bassa anche senza poltrona Cioè non c'è bisogno della poltrona Per renderti bassa Vabbè, perché stiamo facendo questo video? Semplicemente perché Realmente io non stavo caricando video da tre giorni Cioè sarebbe stato No, non mi lega niente Uno deve essere cristallino su tutto Cioè non ho capito Quindi Quindi ragazzi Era quasi praticamente il terzo giorno Che non caricavo video Perché Dai, no, ti devi stare zitto Se fate una cosa Se vedete tipo i video Siamo ancora insieme Scrivete sotto delle challenge da fare Così Bam bam Eh? Sì perché ragazzi Potremmo coinvolgerlo Cioè, lei mi dice Eh? E ha capito in realtà Ma tu hai seri problemi Potremmo Cos'hai messo dentro il frullato? Senti Tu lascia stare il mio frullato Hai capito? Hai le polveri corrette con la droga Non ti preoccupare Che polveri Latte più Latte parzialmente scremato Con più delle droghine Latte più L'hai vista la ciamoccalica? No, non l'hai vista No Allora ragazzi Latte più Latte con droga Allora ragazzi Siccome non penso vi interessi Come io faccio colazione Adesso noi ci avviciniamo Ok Ti siedo sulla schiena lì adesso Praticamente Eh ragazzi Stavamo pensando Di coinvolgerlo In qualche challenge Tipo assieme a me Alex e Serk Non si sa mai Visto che ad Alessandria Sono 50 minuti Praticamente di treno Un'oretta di treno Diciamo Non costa neanche tanto Quindi noi potremmo andare lì Come lui potrebbe venire Qui da noi Papidi E pensavamo appunto Di coinvolgerlo In qualche challenge Già un'idea Di una challenge Ce l'abbiamo Io ne ho parecchie Ne ho pensate veramente Nel senso La prossima challenge Già si sa Quale dovrebbe essere Solo stiamo aspettando Appunto Che qualcuno Tipo il signorino Alex Sia libero da lavoro In teoria dovevamo Registrarla Licenziati da lavoro Semplice Dovevamo registrarla Questa mattina Solo che appunto Improvvisamente Alex Ha guardato i turni Si è accorto Che doveva andare a lavorare Al posto di essere libero Perché se no A quest'ora C'era anche lui con noi Però Ma non è che Guarda tutto il tempo E guarda la camera E non guarda se stessa Perché se no Sembro strabi Che la cosa Mi dà fastidio E poi scusami Se tu parli con una persona La guardi negli occhi Se tu non guardi la telecamera E guardi lì Dove sto guardando adesso Vedi Non stai parlando con la telecamera Stai parlando con nulla Stai tergiversario Se invece io guardo la telecamera Io sto parlando con voi ragazzi E se sto parlando con voi Significa che Che sto parlando con voi Quindi Voi dovete darmi Una risposta Come risposta Nei commenti Oppure con un like Che grab on No vabbè scherzo Comunque ragazzi Ragazzi sto sfruttando Le mie immagini Per fare big money Ormai da quando Interate in contatto con me Boh big money No ragazzi A parte gli scherzi Io sono stanchissimo Davvero Era il terzo giorno Era il terzo giorno A momenti che non caricavo video Quindi facciamo questo video Per avvisarvi che Tanto voi ne vedrete altri Con noi cioè Sì no appunto Per avvisarvi che adesso Noi usciamo Andiamo al parco Andiamo a fare appunto Un altro video Forse Non lo so Perché già ci stiamo Svalvolando con questo Quindi stiamo Stiamo asciugando Diciamo la La fantasia Con questo video E niente Andiamo a farci un giro Poi lui Dalle due in avanti Oggi Sarà Se siete di Torino Se siete di Torino Dintorni Comunque se vi accomodo E volete vedere un pochettino Conoscere un pochettino Di youtuber Gente Eccetera eccetera Se volete Dalle due in avanti Lui sarà insieme a tutti gli altri Al Meet the Cast Al parco del Valentino Mi segnate al parco Valentino Dalla parte dell'arco Esatto Dalle 14 Io purtroppo Dovevo fare un salto Ragazzi Il problema è che ho un impegno Oggi pomeriggio Quindi di conseguenza Non posso andare Ma è in Zumba Cioè quella roba lì Ho una masterclass Pinerolo Sembra così una cosa importante Masterclass È una cosa importante Cioè c'è un biglietto più figo Dei concerti Cioè dai Vabbè parliamo Nei concerti Fanno cagare i biglietti Che fanno Quindi ragazzi Niente Questo era un video Per avvisarvi di questa cosa E se Oggi Non vedrete video Ma vedrete soltanto questo E per quale motivo Perché sono insieme a Condo La mattina Perché il pomeriggio C'è un impegno E perché non sono usciti I video ieri Perché il giorno prima Sono stata a Milano E che poi sono rimasta bloccata Alla stazione centrale di Milano Perché ho perso Non ho perso il treno C'è stato un brutto sciopero Me l'hanno cancellato E quindi di conseguenza Poi mi è venuta A recuperare nebbia Che ringrazio ancora tantissimo Per questa gentilezza Mi è venuta a recuperare nebbia Alla fine stazione Perché non potevo neanche più Riprendere la metro Per andare verso Casa di Lu Perché appunto A una certa ora Chiudeva E inoltre Stavano tardando anche le metro Ma comunque di queste cose Ragazzi ne parlerò in un video A parte Perché devo fare Tra virgolette Video denuncia avverso Devo fare il video del viaggio a Milano Che lo trasformerò in un video Contro Contro Trenitalia Appunto Più che altro Trenitalia del Piemonte Perché il problema è stato La regione Piemonte Non tanto Trenitalia del Piemonte Quindi Esattamente Quindi ragazzi Niente Questo qua è un video Cazzeggio Velocissimo Senza Fagli vedere cosa hai in mano Che l'avremmo fatto vedere Dai Vabbè Si vederà molto bene Così Si si I braccialetti Di Tom's Hardware Anche io ne ho due Che problema c'hai Vedi Uno è qui Perché mi vengono largissi E l'altro lo metto qua sotto Cioè non lo so Vedi Ecco Adesso ne ho due pure io Stic No ragazzi Tra l'altro mio padre Si è attaccato un bollino Di Tom's Hardware Sulla macchina Io non so per quale motivo Sette minuti di video In teoria In teoria In teoria Questo bollino Lo volevo utilizzare Per coprire un bollo Che gli aveva fatto Rui Non un bollino Ma un bollone Contro un albero Anni e anni fa Il problema è che Il bollone è tanto così E la Attacchiamo qua Me l'ha attaccato seriamente Raga Mi ha distrutto Ed adesso Me ne è rimasto solo uno Vabbè raga Facciamo anche così Ovviamente Con la scritta Di fianco Quindi mettiamoli di lato Facciamo proprio Facciamo proprio Spamming Ok Non lo spammano pure noi Capito ragazzi Capito Vabbè ragazzi Niente Questo qua è abbastanza Un video cazzeggio Che farò uscire Farò uscire Immediatamente Non appena stoppiamo La registrazione Lo farò uscire Quindi sappiate Che la giornata di oggi Sarà lui al Meet the Castle Di Torino Io appinerò Lo a fare zumba Pensate un po' voi Che roba Che Dite la merda Per più C'è zumba Comunque vi lascio Il suo canale In descrizione Se volete passare Se volete vedere Poi come è andata La giornata Al Meet the Castle Ovviamente E Diteci nei commenti Se l'idea Di infilarlo In qualche challenge Vi possa piacere Ragazzi Aspettiamo I vostri commenti Ciao Ciao Ciao